Il rischio criminalità è sempre più avvertito nelle campagne, dove nelle ultime settimane si è intensificato il fenomeno dei furti. A dirlo sono i dati istat diffusi dalla Coldiretti Puglia. I furti sono quasi quotidiani, tanto da aver spinto alcuni agricoltori ad agonizzarsi con ronde notturne e diurne, mentre altri si sono affidati a istituti di vigilanza. Olive che andrebbero sorvegliate di notte e scortate durante il trasferimento nei frantoi. Un fenomeno che diventa sempre più grave, per il quale la Coldiretti è intenzionata a chiedere alle prefetture un intervento per il pattugliamento delle strade più sensibili, per proteggere il transito dei tir con a bordo cisterne di olio extravergine di oliva e una maggiore presenza di forze dell'ordine nelle campagne. Secondo l'analisi dell'osservatorio sulla criminalità dell'agricoltura e sul sistema agroalimentare promosso da Coldiretti sui risultati conseguiti dalle forze di polizia, L'intero comparto agroalimentare è caratterizzato da fenomeni criminali legati a furti, estorsioni e alla contraffazione di prodotti alimentari ed agricoli e dei relativi marchi garantiti. Gli imprenditori olivicoli pugliesi sono sempre più vittime di furti di olive ad opera di squadre organizzate che riescono a raccogliere in meno di 30 minuti anche 60 kg di prodotto che valgono oggi circa 80 euro. Al furto di olive si associa anche quello delle attrezzature. La Coldiretti fa sapere che i reati contro il patrimonio, quali il furto di mezzi agricoli, l'abigeato, furti di prodotti agricoli, racket, usura, danneggiamento, pascolo abusivo, estorsione, rappresentano la porta di ingresso principale della malavita organizzata e spicciola nella vita dell'imprenditore e nella regolare conduzione aziendale. Masserie, pozzi e strutture letteralmente depredate, chilometri e chilometri di fili di rame letteralmente volatilizzati lasciando le imprese senza energia elettrica e possibilità di proseguire nelle quotidiane attività imprenditoriali. L'intensità dell'associazionismo criminale risulta elevata nelle province di Bari e Bat con un 40,9%, seguono Taranto con il 39,4% e Lecce con il 37%.